ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego dove fare altre rune quindi c'è un nuovo punto un nuovo glitch dove ottenere più o meno 100.000 rune in pochi secondi senza neanche ammazzare nessun mostro niente di che ci troviamo al cimitero dei giganti per quelli che hanno già sbloccato questa terra dirigetevi qua perché qui faremo un bel po di rune grazie anche all'incremento delle zambe di gallina in salamoia dorata e grazie anche allo scarabeo toro in alto a destra troverai alcuni video su come incrementare le rune al meglio e altri glitch che ho realizzato sul canale quindi dirigiamoci da questa parte fino ad arrivare su quel grande sasso e ci buttiamo giù come avete visto all'inizio del video io faccio più o meno intorno ai 66-70.000 rune senza nessun incremento se in questo caso ti serve un altro glitch un altro posto dove fare rune ti consiglio di guardare questa guida quindi ora riproviamo a fare di nuovo questo glitch ma questa volta vado un attimo a farmare un po di zampe perché mi serve la zamba di gallina in salamoia dorata quindi vado nella terra dove tutto è iniziato prendo un po di zampe di gallina da questi pennuti se questo si sta un po fermo ok eccola qua la zamba di gallina a quattro dita poi le lucciure c'è anche la guida su come trovare tutti gli ingredienti per aumentare così l'incremento delle rune quindi io adesso riprovo di nuovo a farlo e questa volta mi fa vedere il personaggio sulla capretta bisogna fare così colpire l'aria premere un po' i tasti cioè trattenere il tasto Y mi sembra e continuare a schiacciare il tasto per attaccare non ci fate caso a quelle 113.000 rune ho farmato un po' di rune arrivando qua quindi noi eravamo a 77.000 quindi teniamoci in mente 77.000 rune e continuare a schiacciare il tasto per attaccare ed eccolo ed ecco le rune ecco che arrivano piano piano vabbè quindi ringraziamo anche allo scarapè d'oro e alla zamba di gallina che ci hanno permesso di incrementare così le rune e ritorno al cimitero dei giganti al punto dei grazie più vicino quindi io spero tanto di essere vi stato aiuto in questo nuovo tutorial quindi se vi trovate qui e avete voglia di fare rune ragazzi fatele iscriviti al canale attiva la campanella se il video ti è stato utilissimo noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao